Sembra essere cresciuto un nuovo amico qua, eh? Comunque, maledetta a te. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo oggi, come avete detto dal titolo, sicuramente sarà un video molto, molto, come direbbe un mio conoscente, un video della menchia. Oggi in questo nuovo video cercherò di spiegarvi esattamente cos'è successo. Purtroppo, come molti di voi già sapranno, YouTube ha messo delle nuove norme in cui non puoi dire parolacce, non puoi fare molte altre cose. Per colpa di queste nuove norme, anche alcune partner di YouTube sono state coinvolte. Cosa vuol dire questo? Nel mio caso, la mia partner è il Freedom, che ve la lascio anche in descrizione se volete andare a iscrivervi anche voi. È una partner molto buona. E quello che è successo è che in pratica, da qualche tempo fa adesso, non riesco più a monetizzare. L'ho messo in contatto con loro e gli ho chiesto come mai non riesco più a monetizzare dei miei video, perché non mi escono più i miei guadagni. E loro mi hanno detto, è colpa di un tuo video, per questo finché non lo eliminerai non possiamo farti monetizzare nessun altro video. It was at this moment that he knew he fucked up. Io gli ho detto, non c'è problema, ditemi che video è, che tipo di video è che non mi fa monetizzare, ditemelo e lo metto in privato o quello che si può fare. E loro mi hanno detto, non è possibile mettere questo video in privato, se vuoi essere partner con noi, devi eliminare questo video. It was at this moment that he knew he fucked up. Io pensando, vabbè, eliminerò questo video, datemi il link, vedo che video è e lo elimino. Non è così facile. Non appena mi hanno inviato il link, mi è apparso questo video. Sono rimasto scioccato, ho detto, ma non è possibile, mi fate eliminare questo video, proprio il video migliore del mio canale, l'unico video che ha fatto tantissime visualizzazioni. L'unico video anche da dove da lì ho preso tanti iscritti. Eliminare questo video per me equivale a come, non lo so, una cosa troppo, è triste perché quando uno fa YouTube, che fa un video, vedi che va bene, sei felicissimo. E' anche una marca che rimarrà sempre nel tuo canale, dove dici, ecco, ho fatto questo video quel tempo fa, ha fatto tante visualizzazioni, che bello, invece no. Purtroppo sono costretto a eliminare questo video. E' una cosa che faccio a malincuore, ma la faccio. Mi tocca farlo, altrimenti sei costretto a fare video per YouTube così a cazzo, senza fare, senza monetizzare niente. Quindi pensavo, tra me ne, visto che devo eliminare questo video, perché non farci un video mentre lo elimino, così rimarrà almeno un video dove dimostro che avevo quel video con tante visualizzazioni. E' per quello che faccio questo video, ragazzi. A malincuore lo sto facendo, ma andiamo a eliminare questo video. Ok ragazzi, eccoci qua nella mia pagina YouTube, siamo nel mio canale. E in questo momento mi sta bruciando il cuore, elimina questo video, ma porca miseria, ma stiamo scherzando? Cioè, dai. Come potete vedere qua dall'immagine, alcuni video saranno affoscati, perché ci sono molti video che devo caricare ancora e sono sorpreso per voi, quindi non voglio farveli vedere. Ma comunque, ragazzi, ecco qua il video, se smetti di guardare perdi, 95% fallisce, ha fatto 73.452 visualizzazioni, quasi 1000 like. Ma stiamo scherzando, mi tocca eliminare davvero questo video. Senza perderci il chiacchiere, lo faccio qua davanti a voi. Allora, questo video voglio che sia una prova. Se faccio questo video, come ho già detto, è perché voglio che ci sia una prova di chi ha veramente avuto quel video, non sono balle, tutte quelle cose che dico. Detto questo, ragazzi, eccoci qua. Schiaccio qui, potete vedere che è già marcato, andiamo su azioni, elimina. Io sto morendo, non ci posso credere. Elimina. Ragazzi, sto morendo, non ci posso credere. Eliminare definitivamente il video, questa operazione non può essere annullata. È la mannaggia di vostra sorella, madonna. E va bene, ragazzi, è una cosa che deve fare. Siamo pronti? Cazzo! Spero che mi supportate, per favore lasciate un like a questo video per la mia disperazione. Mi fa un culo a questi, guarda. E andiamo avanti. Elimina. Non ci credo. Non ci posso credere, ho eliminato davvero. Non ci posso credere, ho eliminato davvero davvero. Grazie per la visione!